come vi sembra questo corso? bello sicuro eh? no mi fido però vorrei una certa sicurezza ci vuole patenta? ci vuole patenta? mi iscrivetevi sei eccezionale grazie si vede che l'hai detto con passione e non dicendo una cosa formale ho pagato niente adesso qua faccio da tutto basso ho fatto bene a dirlo ho pagato il corso però ho pagato niente per dire ciò che stai dicendo anche perchè non sai che effettivamente ti sto filmando nella parte finale ci vedono solo le tue mani che stanno operando con fantasia sui cavi imparano facendo